La mia esperienza professionale è quella di essere appunto l'editore di questo libro Stalking, sconfiggerlo si può. È un libro che è diverso rispetto agli altri perché entra nello specifico, diciamo un libro che si sporca le mani. Si sporca le mani perché non solo fa una proposta di modificare la legge che sta in entrare in vigore, anzi con la stessa firma da parte dell'onorevole Stefania Scari, ma si tratta di un libro che aiuta anche le vittime a comprendere come difendersi dallo stalker. Quello che posso dire sinceramente come editore è che c'è una lacuna sul piano dell'informazione editoriale circa la comunicazione su questa problematica sociale ma anche su molte altre problematiche sociali. Io propongo la creazione del network anche in collaborazione con altre istituzioni, altri colleghi editori di un polo di discussione, di diffusione capillare anche in luoghi dove magari non arriva l'informazione. Penso ai CUP senologici, nelle ASD, penso ai centri di disturbi alimentari. Questa è la forza. Non mi vergogno di dire che un elemento di militanza oggi all'interno dell'editoria che non si occupi soltanto di pensare alla classifica o alla vendita del libro sia un elemento necessario per un salto di paradigma dell'editoria nel sociale, per il sociale e con il sociale.